Pesaro è l'unico comune italiano che si è visto finanziato un progetto dalla comunità europea, un progetto Erasmus, al quale abbiamo partecipato insieme alle formiche rugby. Qui con me c'è il presidente delle formiche rugby, Gabriele Del Monte. È un progetto che vuole andare a capire quelle che possono essere delle forme di bullismo che si possono trovare anche in un contesto sportivo, in uno spogliatoio. Allo stesso tempo vuole provare a capire come si possono limitare. È un progetto veramente trasversale, siamo già partiti con diverse iniziative di sensibilizzazione su quello che è il fenomeno del bullismo all'interno dello sport. Quindi non solo declinato per quello che è lo sport del rugby. Abbiamo inserito 13 iniziative all'interno del programma Estate tra Borghi e Quartieri. Quindi avremo cortometraggi, avremo iniziative di presentazione di libri, piuttosto che momenti di incontro con allenatori, tecnici e atleti paralimpici. Diciamo che questa sarà la parte di disseminazione. Le iniziative saranno tante perché saranno anche all'interno del contesto scolastico, saranno all'interno del campo da rugby, di muraglia. Saranno anche all'interno di quello che era il contesto del beach rugby, insomma che speriamo di riprendere perché purtroppo con questi anni di pandemia il beach rugby, che è un evento che ha caratterizzato la nostra città, basta pensare ai tanti ragazzi e ragazze che giocavano a rugby in spiaggia. Diciamo un evento che ci ha caratterizzato in questi anni. Questo sarà anche parte del progetto di rugby, quindi ci sarà un comitato tecnico scientifico, degli psicologi, dei tecnici allenatori, appunto per formare dai giocatori ma anche gli stessi allenatori che sono delle figure importanti e di riferimento in un contesto sportivo. Il compito nostro come Formica è quello di lavorare insieme agli specialisti per produrre il protocollo educativo, è quello che abbiamo fatto. Il nostro compito è quello anche di entrare nelle scuole a fare la dimostrazione attraverso due serie di sei lezioni che faremo in autunno e in primavera e poi portare tutto il nostro lavoro in due manifestazioni, che è quella che citava Mila, il beach rugby, al quale saranno invitati tante società, anche straniere, europee ovviamente, e soprattutto all'evento internazionale di settembre dove è prevista la presenza di dieci nazioni stranieri con dei giovani e dei giovanissimi giocatori.